Intanto ringraziamo tutti, ringraziamo Trieste X Rock e tutta Hot in the City che ci ha voluto qui stasera, tocca sopra, si sentirà tutto alla perfezione. E ancora una volta io vi presento Luigi Sozzagli al basso, Sergio Ratti alla tapperia alle luci, e io mi ringrazio ancora tutti di cuore, grazie a tutti gli amici che sono venuti qui stasera, mi sento un piacere di rivedersi. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti